ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare una nuova puntata di riders of the lost film questa volta andiamo un bel po indietro nel tempo di quasi anzi di oltre 70 anni andiamo al 1958 quando uscì nei cinema italiani venezia la luna e tu commedia di dino risi con protagonista alberto sordi e marisa all'asio ne parlo con grande piacere con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giuglio buona giornata a tutti allora parliamo di siamo andati a recuperare questo venezia la luna e tu che in realtà poi nel fine del 58 poi negli anni 60 hanno voluto cambiargli il titolo secondo me meno in un certo senso romantico perché è stato rintitolato nel 64 come i due gondolieri che sono poi i due protagonisti perché siamo a venezia il protagonista è bepi che alberto sordi che è un gondoliere professionista che appunto passa la giornata a trasportare turisti è promesso sposo e fidanzato da anni con la bellissima nina ma lui ha un vizio si innamora abbastanza facilmente delle delle turiste che porta in giro per i canali di di venezia fa da cicerone e soprattutto si innamorerà di due americane questo ovviamente non piacerà a nina che più volte lo ricatta e gli dice anche che è disposta a mandare a monte il matrimonio per sposare toni riuscirà bepi a non fare il così il marpione con le turiste e a portare sull'altare nina lo scoprirete lo scoprirete solo vivendo sì effettivamente è questo è uno dei film di un giovanissimo giovanissimo abbastanza giovane insomma di norisi e con due giovani attori anche se erano già insomma decisamente affermati sia come alberto sordi e nino manfredi e anche la bellezza dell'epoca perché marisa all'asio era una delle bellezze degli anni 50 che aveva le curve e le misure tipiche della bellezza di quegli anni una bellezza molto provocante con questo seno abbondante pur essendo decisamente minuta un po' come poteva essere che ne so io la mary limoro di quegli anni ecco assolutamente che poi ebbe un una carriera decisamente tipica perché benché fosse poco più che ventenne fece altri due film e poi decise di abbandonare di riterarsi la vita privata benché avesse davanti a sé un futuro radioso da un animista cinematografico e giustamente citato nino manfredi che interpreta un impacciato toni che è disposto a fare qualunque cosa per sposare nina e non si sa se o meglio vedrete il film e scoprirete se nino manfredi ce la farà siamo abbiamo voluto recuperare questo film anzitutto per il protagonista nel senso che alberto sordi che lo conosciamo benissimo e più volte come riders siamo andati a recuperare dei suoi film è uno dei pochi film in cui esce diciamo dal dal grande raccordo anulare e da una città anche come milano dove spesso anche lì era protagonista e fa un veneziano con tanto di accento veneto che ogni tanto intercala con l'accento romano quando si arrabbia e il contrasto fa ovviamente molto molto ridere e poi un altro motivo è perché spesso sempre nelle nostre puntate raccontiamo un po come le città si trasformano tramite nel tempo guardandole attraverso i film e vedere Venezia del 1958 è assolutamente un'altra Venezia rispetto a quella che conosciamo caotica con i canali sporchissimi e un le le navi da crociera che arrivano in pieno canal grande ecco una Venezia decisamente mi permetto di dire anche molto più bella molto più romantica e molto più calma sì la la cosa più divertente è effettivamente vedere un romano come il sordi e un ciociaro come Nino Manfredi alle prese col veneziano quindi la la cosa è più divertente di qua di veneziano c'è praticamente non c'è nessuno nel cast di veneziano di veneto ci sono pochissime persone se non i figuranti quindi la cosa più divertente è proprio quella però è un film è un film divertente un film garbato come potevano essere certe commedie certo non è da annoverare tra le commedie più belle di quegli anni e neanche una commedia particolarmente rivoluzionaria però è un film garbato e come spesso accade visto poi a distanza appunto di 65 anni come potrebbe essere questo questo venezia la luna e tu diventa ancora più romantico come dicevi per guardare una città con altri occhi riguardare attori che non ci sono più e o attrici che hanno segnato un minimo della storia del cinema italiano ma seppur con pochissimi film come Marisa Allasio sono rimasti comunque all'interno di questo immaginario di un cinema veramente vitale e vivo come era il nostro cinema italiano di quegli anni sì è vero anche perché aggiungo una parola rispetto al tono come hai detto è gioioso allegro gioca con le bugie con gli equivoci ma mai andando oltre certi toni mai risultando ma neanche lontanamente volgare la sceneggiatura che porta la firma dello stesso Dino Risi insieme a Pasquale Campanile insomma è una sceneggiatura brillante perché le dinamiche funzionano funzionano bene ma non si va oltre certi certi confini come poi da diciamo dagli anni 70 80 in poi insomma si andrà decisamente oltre venezia la luna e tu il film riscoperto dai riders questo film di Dino Risi del 58 con Alberto Sordi Marisa Allasio e Nino Manfredi da riscoprire naturalmente per questo appuntamento è tutto come sempre grazie per Paolo ciao a tutti alla prossima